eccoci e bentornati sul mio canale ragazzi spacchiamo subito il tasto dei like subito un bel mi piace ancora prima di iniziare perché è arrivato un'immagine direttamente dal sito reddit.com che ci svela date orari e durata della beta privata di call of duty world war 2 partiamo subito la beta inizierà il 25 di agosto su ps4 esclusiva ps4 e partirà il 25 agosto alle ore 19 e terminerà il 28 di agosto alle ore 19 questo per quanto riguarda la prima settimana la seconda settimana durante la quale si potrà giocare sia su ps4 che xbox one partirà alle ore 19 del primo di settembre e terminerà il 4 di settembre sempre alle ore 19 questo è tutto quello che al momento vi posso dire sulla beta multiplayer del gioco subito un bel mi piace fatemi sapere che cosa ne pensate ci vediamo più tardi con tanti nuovi aggiornamenti